Una Croce Rossa diversa rispetto a quando è entrato comunque in vigore il nuovo direttivo. Ve l'aspettavate una Croce Rossa comunque così attiva? Beh, questa è stata una bella sorpresa e anche una bella scommessa perché entrare in carica e trovarsi ad affrontare lo scenario dell'emergenza Covid è stata veramente una bella prova del 9. Beh, possiamo dirci soddisfatti nel senso abbiamo notato una capacità che era stata costruita negli anni e quindi noi abbiamo ereditato cercando poi di migliorare per quanto possibile la nostra capacità di risposta. Un bilancio è molto positivo. Abbiamo affrontato i primi mesi del nostro Consiglio in questo comitato e contemporaneamente abbiamo dovuto affrontare fin dal primissimo giorno, il 24 di febbraio, l'emergenza Covid. E tutto man mano che passavano i giorni sembrava che ostacolasse, che fosse insormontabile, invece con professionalità, con capacità, con l'aiuto dei volontari abbiamo dato alle persone in difficoltà, ammalate di Covid, infettate dal Covid o non infettate, un grande aiuto. E la cittadinanza in queste ultime settimane soprattutto ci ha risposto. Risponde con donazioni, con la loro personalità, diventando volontari temporanei, aiutandoci, aumentando l'aiuto che noi possiamo dare ai cittadini di Torino, ai torinesi. I mesi che ci aspettano saranno migliori di quelli passati, perché c'è l'estate, e questo parlo come medico, quindi il tempo, il clima, cioè nei prossimi mesi ci aiuterà. Però dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare molto attenti perché ci sono dei focolai di Covid, potrebbero anche esserci dei focolai a Torino. Ma noi siamo preparati ad affrontare questi focolai, perché in questi mesi ci siamo molto esercitati e abbiamo affrontato bene. Superati questi prossimi due mesi, inizierà l'autunno e quindi dovremmo temere i prossimi mesi invernali, ma siamo molto più preparati di quando è iniziata la nostra attività a febbraio-marzo. Paura no, maggiore consapevolezza. Una consapevolezza che deriva dal fatto che continuamente si conosce e quindi le emergenze diventano sempre meno emergenze. Adesso abbiamo una ragionevole tranquillità nell'affermare che ci troviamo decisamente più preparati, più consapevoli tecnicamente e operativamente. Lei prevede che i ragazzi torneranno sui banchi di scuola il 14 settembre? Sì, spero di sì. Ma torneranno diversi da prima, da prima fino a gennaio era un modo di vivere la scuola, adesso invece sarà diverso. Quindi le mascherine, la mancanza di assembramenti, l'attenzione, le conoscenze sulla propria salute, perché le misure di prevenzione, se c'è un vantaggio, una virtù che ci ha dato il Covid, è proprio stare meglio con la nostra salute, conoscere di più gli aspetti preventivi. Abbiamo notato che non solo c'è un aspetto di prevenzione verso le malattie respiratorie che è aumentato, quindi per le malattie tipo il Covid, ma c'è un'attenzione maggiore anche a altri aspetti della salute. La guardia non va abbassata e anzi l'allerta che vogliamo lanciare, Croce Rossa da sempre impegnata nel diffondere, nel divulgare la cultura della prevenzione, è proprio di non abbassare la guardia, essere sempre prudentemente attenti.